carissimi amici e fratelli e sorelle pace del signore a tutti quanti voi dio vi benedica oggi è primo settembre inizio nuovo mese e noi continuiamo a leggere nel libro di jonathan goffort per lo spirito mio dal capitolo 5 che ha come titolo pentimento e confessioni pubbliche abbiamo tra virgolette visto come jonathan goffort fece tappa a scienzi la provincia martire della cina denominato così a causa dei numerosi credenti che vennero uccisi durante la rivolta dei boxer del 1900 il mio programma scrive jonathan goffort a scienzi era stato organizzato in modo da lasciarmi soltanto un giorno per si ciò e non sembrava possibile che in quel poco tempo un giorno soltanto in quella città si ci potesse essere una qualunque opera dello spirito santo inoltre jonathan goffort era stato avvisato che c'erano diversi problemi in quella chiesa sembrava che la moglie di uno degli insegnanti della scuola missionaria fosse una donna dal temperamento indovabile infatti qualche tempo prima del suo arrivo in uno dei suoi scatti dire aveva addirittura perso la vista a causa dei suoi continui litigi e creava problemi dappertutto e i missionari non riuscivano a affrontarla perché sapevano bene che se l'avessero detto qualcosa avrebbe fatto secondo luciano l'usanza cinese una sorta di sceneggiata napoletana lasciatemi passare questo termine cioè sarebbe andata avanti e indietro per le strade dicendo ogni sorta di cose negative sulla chiesa cristiana e sui missionari stessi la difficoltà più grave comunque che i missionari dovevano affrontare era sorta in relazione alle azioni di un certo signor cuo che era stato per molti anni uno dei più autorevoli membri di chiesa questi durante la rivolta dei boxer aveva dato mostra di grande valore in quanto aveva fatto moltissimo per confortare e rafforzare gli altri credenti durante quei mesi di persecuzione tuttavia dopo che gli alleati avevano preso pechino l'imperatrice marre era scappata ovest verso sianfu e funzionari di governo essendo spaventati cercavano di riparare i torti che avevano fatto ai cristiani e questo signor venne spesso convocato nella residenza del mandarino ai fini di essere consultato e lui il mandarino divennero così amici spesso rimaneva in quanto invitato a mangiare presso la tavola del mandarino dove c'era anche abbondanza di vino e in alcuni casi era tornato dall'oyamen perdutamente ubriaco e a malapena capace di camminare barcollando fino a casa sua e addirittura in un'occasione essendosi ritirato ebbro più delle altre volte era arrivato quasi ad uccidere di botte sua moglie che si era permessa di fargli notare lo stato vergognoso in cui era rincasato i missionari alla fine sentirono che era loro dovere biasimare cuo per la piega che stava per la piega scusate che stava prendendo ma cuo anziché ravvedersi e pendirsi era andato su tutte le furie aveva lasciato la chiesa si era portato via con sé la metà dei membri così all'arrivo a siccio di jonathan goffort egli decise di inviare una nota a questo cuo dicendo di quanto avesse sentito parlare del suo eroismo durante la rivolta dei boxer e del desiderio che aveva di incontrarlo e proprio per questo lo aveva invitato ad uno dei culti che si sarebbero tenuti il giorno dopo in quanto questa sarebbe stata l'unica occasione per potersi parlare e alla riunione del mattino gli venne indicata la presenza di cuo da parte di uno dei suoi collaboratori e cuo tornò anche al culto pomeridiano proprio nel culto pomeridiano jonathan goffort presentò il messaggio della parola di dio che era incentrato sul tema del rimuovere la pietra visto che quel passo gli era stato messo nel cuore dal signore sin dal suo arrivo nella città di siccio fino a circa metà del sermone cuo sembrava alquanto a suo agio poi qualcosa sembrò toccarlo e mentre abbassava la testa le lacrime cominciarono a scorrergli sulle guance concluso il sermone invitai alla preghiera e molti risposero ma le loro preghiere erano le cose più ridondanti e senza vita che avessi mai udito era una giornata particolarmente calda la maggior parte di noi grondava di sudore c'era un numero insolitamente elevato di bambini nella pletea sembrava quasi che ognuno di essi schiamazzasse con il volume della voce al massimo inoltre in un cortile vicino un cane ululava come se venisse fatto a pezzi era difficile ignorare il pensiero che forse sarebbe stato troppo aspettarsi che lo spirito santo operasse in un contesto simile eppure per tutto il tempo assieme agli altri missionari stavo scrive goffort intimamente pregando che in qualche modo la potenza dello spirito di dio si manifestasse in quel pomeriggio in quel momento cuo cominciò a pregare e all'istante i bambini sembrarono addormentarsi il cane smise di ululare e noi ci dimenticamo perfino del caldo mentre gli procedeva con accenti rotti nel confessare il suo peccato c'era un silenzio quasi tombale nell'assemblea e appena ebbe finito si udirono si udirono ovunque singhiozzi soffocati dopo un po una donna seduta nella parte posteriore della chiesa cominciò a perreare il suo pallido viso solcato dalle lacrime mostrava chiaramente che erano state scandagliate le profondità del suo cuore con voce spezzata riconobbe il suo temperamento malvagio e il modo in cui l'opera di dio era stata da esso ostacolata era la moglie dell'insegnante dopo il servizio io e cuo camminammo insieme per strada sai mi disse semplicemente non posso spiegare quel che mi è successo questo pomeriggio tutto a un tratto mi è sembrato di sentir divampare un fuoco dentro di me sentivo che sarei bruciato se non avessi confessato i miei peccati in quel momento e non mi fossi messo a posto con dio la mia parola scrive geremia non è forse come un fuoco dice il signore è come un martello che spezza il sasso e questo è quello che avvenne in quei giorni in quelli anzi in quel giorno in quella città e possa il signore far sì che ancora oggi la parola di dio possa essere accompagnata dalla potenza dello spirito santo e vogliamo pregare che nei nostri culti lo spirito di dio possa avere libertà di operare affinché i peccati siano confessati e la benedizione di dio possa scendere su ogni persona sì il grande ostacolo il grande problema dell'uomo ancora oggi è il peccato inconfessato e tante benedizioni di dio non sono riversate sulle comunità a causa della durezza e dell'ostinatezza di tanti che continuano a nascondere le proprie i propri comportamenti nefandi o a giustificarli come se fossero normali possa lo spirito santo operare in ogni cuore e far sì che la chiesa di cristo si possa distinguere ancora oggi per una chiesa non solo risvegliata ma innanzitutto e prima di tutto ripiena di potenza dall'alto che scaturisce da una vita trasparente che imita quella di cristo e mostra che c'è una strada alternativa alla corruzione e della strada di gesù e del suo santo evangelo pace cari dio ci benedica e ci accompagni in questo nuovo giorno grazie a tutti